Cosa chiedere di più a un remake? Ragazzi, non ne ho la minima idea, ma senza ombra di dubbio Resident Evil 4, che vende ben 4 milioni di copie, in soli due settimane si candida a essere una grande, un grande titolo che ha generato grandi introiti per Capcom, che ha imbroccato la formula. Un'IP importante, ricostruiamola oggigiorno dal punto di vista del gameplay, dal punto di vista della narrazione, dal punto di vista grafico, e glielo ridiamo in pasto al pubblico. Senza alcun dubbio questi Resident Evil, che abbiamo vissuto in questi anni di remake, sono stati i migliori in assoluto. IP funzionava una volta, finish funziona anche adesso. Ora, potrebbe essere arrivato il momento nella quale Capcom deve iniziare a fare delle scelte, e delle scelte in alcuni Resident Evil, che forse così incredibili non sono, come ad esempio il 5. E ne parleremo in questo video. Benvenuti su Top of Gaming. E appunto parliamo di Resident Evil 5, ragazzi, perché ovviamente dopo il risultato ottenuti dai vari Resident Evil, Resident Evil 5 è essenzialmente il prossimo Resident Evil dal punto di vista cronologico che ci aspettiamo. Ora, però, noi sappiamo una cosa bella definita. Il 5 e il 6 non sono ricordati in maniera così amabile e importante dai player. Inoltre, c'è anche da dire che gli altri Resident Evil, come ad esempio il 4, beh, sono passati tanti anni. Cioè, vi faccio semplicemente un esempio. Resident Evil 4 è uscito nel 2005, il remake nel 2023. Resident Evil 5, invece, esce nel 2009, e cioè 4 anni più tardi. Insomma, non dico che sia essenzialmente un gioco così tanto, 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 tanto vecchio da doversi permettere un remake. Certo, siamo abituati al di tutto e di più, eh, ultimamente. Però, essenzialmente, questo è il primo tarlo che vi voglio mettere nel cervello. Perché ci vuoi mettere nel cervello questo tarlo, Silver? Beh, perché appunto abbiamo questo dato, quello dell'anno. Il videogioco è anche ancora oggigiorno giocabile. Resident Evil 5 è giocabile su PlayStation 4. Nintendo Switch, Xbox 360, che sebbene siano console vecchie, a parte la Nintendo Switch, ovviamente, insomma, tendono ad essere ancora godibili, ok? Il secondo punto è quello che vi ho detto. Forse non sono i titoli più amati in assoluto. Ed è qui che si scaglia essenzialmente la terza teoria. È vero, io ho detto, parliamo di Resident Evil 5 Remake. Ma in realtà, online, ci si sta chiedendo del... Ma... E Resident Evil Veronica? Come la mettiamo? Resident Evil Code Veronica. Vi ricordo essere un titolo uscito per PlayStation 2, Gamecube. Inoltre, vi metto un altro tarlo nel vostro cervellino. Lo sapevate che all'incirca 5 anni orsono Capcom si è scagliata contro un gruppo di modder che stava ricostruendo Resident Evil 2 con grafiche e meccaniche, diciamo, moderne? Ebbene sì. Se andate indietro nel tempo, nelle notizie, troverete che Capcom si era scagliata contro questi sviluppatori. Era un progettino, fanbase, quindi una cosa portata avanti a tempo libero, ma stava diventando importante come idea. Tutto questo avveniva intorno nel 2017, all'incirca. Capcom va da loro e gli dite o la smettete o vi faccio causa. Lo sapete, sono giapponesini un po' incazzosi e non vogliono assolutissimamente che niente gli venga rubato. O per meglio dire, si pensava così, poi all'improvviso avevamo capito che Capcom aveva già in mente di fare dei remake. E appunto bloccano quel progetto e lo ripropongono loro. Morale della favola, da un'idea, forse, della fanbase. Loro hanno detto, ah, la voglio avere anch'io questa idea, e l'hanno portata. Morale della favola, successo incredibile. Ora la storia si è ripetuta, perché Resident Evil Code Veronica, essenzialmente il remake, fanbase, e si sta già sviluppando da qualche anno. E indovinate cos'è successo? Capcom è andato da loro e gli ha detto, occio, occio, o la smettete, oppure vi facciamo una mega molda. Sapete che là col copyright non scherzano neanche lontanamente, ok? Bene. Morale della favola, il progetto CodeVale Veronica Fanmade è stato completamente e totalmente... è sparito, non si riesce più a trovare. E questo fa presumere, appunto, che un remake più del CodeVale Veronica, che se non di Resident Evil 5, sia il prossimo grande progetto di Capcom. Ed è appunto questo il terzo tarlo, il terzo indizio, forse il quarto, che mi fa assolutissimamente pensare che Resident Evil 5, in sé per sé, non meriti così tanta attenzione, ma, tornando indietro, si potrebbe presagire, appunto, a un primo Resident Evil, oppure, appunto, a questi Resident Evil Code Veronica. Ed è qui, quindi, che secondo me Capcom dovrà, un attimino, alzare abbastanza alto le sue orecchie e porre attenzione, porre l'accento su quale vero progetto si attende, perché si è ben accorta che, sebbene Resident Evil 4 Remake abbia brillato, il 2 abbia brillato, il 3 non ha brillato così tanto. Alcune scelte, soprattutto, limitare o tagliare parti di trama non è piaciuto per niente alla community. Ora, l'idea di riportare un videogioco come questo, a soli, soli, 13 anni dal suo rilascio, e non è neanche esattamente il titolo, il Resident Evil che tutti vorrebbero, potrebbe non portargli quegli enormi risultati che vi ho raccontato all'inizio. Cioè, stiamo parlando di 4 milioni di copie in due settimane di Resident Evil 4 Remake. Mica pizze fichi, cioè, soldi appalate. Fate 4 milioni di copie per 60 dollari all'incirca. A voi il calcolo. Inoltre, Capcom ha anche capito che mettere ad esempio a disposizione del pubblico il comparto multiplayer è stata un'idea delle balle. Quindi, anche su metto in campo nuove idee Capcom è bella guardinga. Ed ecco quindi che, alla fine della fiera, Resident Evil 5 Remake non mi sembra esattamente l'idea più furba che possa avere Capcom. stando al pubblico, stando a voi, stando ai player, sarebbe forse meglio tornare ancora più indietro gli esordi di Resident Evil. Certo, Capcom deve continuare con la saga di Resident Evil ed essenzialmente Resident Evil 9. Lo sappiamo, qualcuno ci sta pensando. Ma, ribadisco, un ritorno all'uno? Un ritorno a quei progetti spin-off? Non potrebbe essere la soluzione più giusta? E dopo di quelli, che succederà? Ragazzi, è tutto un sé, è tutto un ma. Fatto sta che i progetti remake stanno funzionando. Volete che non ci riprovi con un altro titolo di questa saga? Voi ditemi semplicemente se secondo voi sarebbe meglio un remake del 5 o appunto di Code Veronica, un titolo molto più molto più vecchio e un po' meno conosciuto. Quale potrebbe dare un altro incredibile slancio di vendite a Capcom? A voi larga sentenza, io vi ho espresso quello che ho cercato, ho espresso dei concetti. Spero che il video vi sia piaciuto. Un like, gentilmente, e un'iscrizione, due piccoli click e mi fate davvero contentissimo. Al prossimo mega video. Ciao! Ciao!